Lo Stato italiano ha manifestato la propria riconoscenza e gratitudine per aver dimostrato lealtà, dedizione e trasparenza. Questo in sintesi parte del discorso che il prefetto di Bergamo Camillo Andreana ha tenuto durante la consegna delle onoreficenze ai cittadini che si sono distinti nella loro attività onorando la famiglia, il lavoro e la società bergamasca. Tra le persone insignite dall'attestato Arnaldo Bergamelli di Pradalunga, 74 anni, titolare ed azienda, con una vita di grande attaccamento al lavoro e di attenzione alla famiglia, pur con le grandi difficoltà e ostacoli incontrati durante il cammino. Ho cominciato presto, la gente mi ha voluto parecchio di bene, io ho sempre fatto il mio dovere, ho aiutato parecchia gente, sono arrivato qua insomma. Cosa ha fatto lei nella sua vita? Ho cominciato a 14 anni, andare in un magazzino di dolciumi all'ingrosso e consegnavo col triciclo, una volta c'era il triciclo e poi ho imparato sul balilla, ma questo ho 18 anni perché non potevo guidare prima, però andavo col titolare della ditta e andavamo a consegnare. Poi lì ho cominciato con i gelati e sono andato avanti per 50 anni e più. Difficile stare lontano dall'attività portata avanti dal figlio con lo stesso amore che il genitore è riuscito a trasmettergli. Anche oggi vado su qualche volta ancora perché magari è mia, sta fermo, sono su con mio figlio. Qualcuno direbbe la sua è stata una dolce vita. Ah mia tata, è stata di un po' di tutto, sì a me piace, guardi per me molto 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 molto, però non è stata anche facile insomma perché è successo un fattaccio che mi ha mancato un figlio, ecco. Però ho avuto la fortuna di avere una moglie meravigliosa. Sì, sì, anche lei, anche lei mi ha sempre dato una mano, anche adesso perché. È sempre vicino. È sempre, sempre, tutti i giorni ancora.